Ciao a tutti, qui Antonio e Anton. Oggi siamo qui perché stiamo preparando qualcosa di veramente straordinario per il 2014. Però per scaldare i motori abbiamo deciso di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non avevamo mai fatto. Un bel concorso. Anton, ci vuoi dire qualcosa? Certamente. Quest'anno, e anzi nel giro del prossimo mese, vogliamo scoprire chi è e come deve essere il vero uomo. Quello che dovete fare è chiedere alle vostre amiche, alle vostre fidanzate, o comunque alle vostre donne, chi è e come deve essere il vero uomo. Registrare, filmare la risposta e pubblicarla su YouTube. Il miglior filmato vincerà un bel iPad Retina. Quindi se volete partecipare al concorso, troverete le specifiche di come fare qui di sotto. Però ragazzi, deve essere qualcosa di veramente straordinario. Impegnatevi. Il premio è grande, ma il vostro sforzo deve essere ancora più grande. Quindi chiedi alle tue donne chi è e come deve essere il vero uomo e potrai vincere un bel iPad Retina. E che vinca il migliore. A presto! Questo rumore sembra che stiamo torturando dei delfini. Ridillo? Dio. 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 Grazie a tutti